Come budget, ed è un budget tale che con i soldi pubblici non si può e non è neanche giusto coprire ovviamente. E noi quindi lavoriamo alla ricerca di fondi privati, di privati appunto che scommettono in questo festival e che adesso stanno anche avendo i primi grossi rientri dal punto di vista pubblicitario. Insomma, possiamo dire che... Quindi lavorare tutto l'anno alla parte economica ovviamente, alla ricerca dei capitali, no? E alla parte organizzativa, perché anche lì creare il palco giusto, con le luci giuste, riuscire a fare tutto per tempo. Una piazza non è che si possa mettere un palco, bisogna studiarne la planimetria, bisogna... Date anche lavoro a tanti ragazzi. Diamo lavoro a ragazzi e a industrie del luogo appunto. Ogni tassello del festival è una piccola azienda locale che cerca di crescere insieme a noi. Ogni persona che lavora con noi appunto dallo staff a chi fa le luci, a chi fa l'audio è una persona di Montefiascone o di Viterbo che ha scelto di appunto lavorare insieme a noi più perché crede nel progetto che per una possibilità di carriera. E bisogna avere dire che insomma si dimostrano soddisfatti. Allora, dove pensa di arrivare questa vostra rassegna? Quali progetti avete per il futuro? Come intendete anche modificarla, cambiarla, farla crescere? Ci saranno i vostri piani questo, no? Sicuramente dal 23 luglio al primo agosto faremo la quinta edizione. Sicuramente si parte passo passo. Siete ambiziosi se siete arrivati fin qui, quindi dove volete arrivare? Sicuramente a dare un'offerta ancora più ampia. Diceva prima Glauco delle location del festival che per quanto splendide sono anche difficili. Quindi spesso questa è una limitazione dell'offerta cinematografica. Basti pensare che ovviamente la piazza si può usare semplicemente la sera per ovvie ragioni. Quindi ecco l'idea è quella di avere ancora più spazi e di offrire più opere. Poi ovviamente quelle che attualmente sono opere prime e seconde in concorso si spera che in un futuro neanche troppo lontano possa essere delle anteprime. Diciamo che un festival che riesca ad offrire solo ed esclusivamente anteprime nella sezione competitiva ovviamente è un festival che ha già raggiunto una certa importanza. Poi è ovvio che insomma l'idea anche è quella di poter coltivare delle amicizie e dei rapporti con ospiti del calibro appunto di un Verdone o un Moretti o un Abel Ferrara conoscene sempre di più e offrire al pubblico gratuitamente perché ci eravamo dimenticati di dire che il festival è totalmente ingresso gratuito. Ecco quindi non si paga per venire a vedere il festival. Assolutamente no. Sì, crediamo che insomma la cultura debba essere anche partecipata per cui insomma è anche giusto che si offra la cultura senza chiedere niente in cambio se non appunto la partecipazione. E detto anche tra noi, visto che poi non abbiamo problemi a parlare in ambito economico, non sono certo quei 500 biglietti strappati per ogni opera prima che a noi cambierebbe la vita. Quindi è proprio un discorso che non piace fare. Tra l'altro anche tutti i concerti, la sezione del Dopofestia che è un'altra sezione che ci siamo dimenticati di accennare sono tutte situazioni insomma che non prevedono l'esporsa. Cosa accade in questo Dopofestia? Eh, il Dopofestia è una sezione molto divertente. Non mi passa il stile di Sanremiano questa cosa. Sì, diciamo è più anarchico. Perché... Ti mette da ballare in piazza, come funziona? No, no, noi non ci esponiamo, però insomma l'anno scorso abbiamo avuto diverse... Umbriacate con l'Est-Est-Est, no? Nemmeno. Beh, è un compagno fedele del Dopofestia all'Est-Est, diciamolo. Allora, che cosa accade in questo Dopofestia? Beh, sono... Ogni sera c'è una situazione diversa. Possono essere delle piccole situazioni musicali fino a veri e propri concerti. Possono essere delle letture teatrali o delle lezioni di cinema o delle proiezioni di cortometraggi. Avvengono in largo plebiscito che è una piccola piazzetta alle spalle di quella che è la piazza dove facciamo le proiezioni serali, che può ospitare fino a 200 persone tranquillamente sedute tra i gradini del paese che sale alle spalle e i locali che stanno lì sulla piazza. E quindi è un modo, diciamo, per coinvogliare quelle che sono anche le energie giovani della città. Appunto, chi a mezzanotte, finita il dibattito della proiezione, vuole continuare a restare appunto in centro, a bere, parlare, vedere ancora qualcosa. Ecco, gli abbiamo dato una struttura l'anno scorso, ha avuto molto successo e quindi lo replichiamo quest'anno. E dalla prima all'ultima sera... Di farlo diventare itinerante, questo festival, di mandarlo anche un po' in giro o no? Può stare solo a Montefiascone? No, l'idea è in realtà di partenza, quando presentammo un progetto alla regione piuttosto sfizioso, questo si può dire che è un'aneddota divertente, presentammo a 24 anni un progetto da più di un milione di euro, un piano quinquennale incredibile. E vanno picchiati subito, no? No, anzi, non ci hanno picchiato, quindi già questo è stato il primo passo per la costruzione dell'Espin Festival. Però la nostra idea era quella ovviamente di diffonderlo, l'Emasi era un festival itinerante. Ovviamente l'Espin Festival è pensato per Montefiascone, però l'idea nostra, ovviamente soldi permettendo, perché poi vuoi o non vuoi, l'aspetto economico è quello principale, però l'idea sicuramente è quella di estendere l'offerta per tutto il periplo del lago bellissimo, che è il lago di Bolsena, quindi magari in un futuro coinvolgere comuni quali quelli di Bolsena, di Marta o di Capodimonte, che insomma sono tutte realtà bellissime dal punto di vista proprio estetico, ma anche di culturale. Avete comunque fruitori che già vengono da questi luoghi? No, quello assolutamente. Insomma, poi abbiamo anche persone, a proposito di pubblico, straniere, perché appunto essendo un posto molto molto bello, non è difficile incontrare persone che magari possono venire dalla Germania invece che da Olanda o dall'Inghilterra, quindi insomma sicuramente l'idea nostra è quella di rendere il Festival, oltre che anche itinerante, ancora più internazionale. Questo è il gol che ci proponiamo. Sicuramente ci riuscirete con la vostra ammissione. L'Italia è il paese dei festival, voi credete che la quantità faccia bene al cinema italiano, oppure è preferibile puntare su pochi festival ma di qualità? Guarda, io ho sentito opinioni discordanti. La mia è che faccia bene, perché comunque festival come il nostro... Faccia bene cosa? La quantità? La quantità, la quantità faccia bene, perché ogni festival rende più vitale un paese, una zona, quello che gli sta attorno, i paesi accanto, e quindi dà una possibilità a un pubblico che al di fuori delle grandi metropoli non ha questa opportunità di entrare a contatto col cinema, ma diciamo che non sia il mega incasso hollywoodiano o anche quello italiano, insomma. E questo si può fare soltanto con tanti prodotti come il nostro in tutta Italia, perché noi per quanto possiamo appunto avere l'ambizione di estenderci al peribro del lago di Bolsena, non possiamo arrivare in Veneto, non possiamo arrivare in Emilia Romagna o in Calabria. C'è bisogno di tante realtà con le nostre per convolgere il pubblico, per farlo crescere anche cinematograficamente. E ovviamente noi non siamo in competizione con quelle tipo Venezia, Roma, Torino, che sì, si danno fastidio l'un l'altra perché puntano sullo stesso prodotto e vogliono tutti l'esclusiva. Noi puntiamo a diffondere la cultura, non a privarne altri. Allora, noi abbiamo terminato il tempo, ringrazio appunto i ragazzi per essere stati con noi, Riccardo Rizzo e Glauco Almonte, i direttori artistici dell'Est Film Festival. vi ricordo l'appuntamento a Montefiascone dal 23 luglio al 1 agosto. Ho indovinato? Sì. Grazie anche a Gianluca Boezio per essere stati con noi, noi invece ci vediamo settimana prossima sempre con Monitor qui su Super 3. Vi aspetto, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie.